Per il futuro era stato abolito, ma rimaneva per i consiglieri regionali in carica, il fatidico e anacronistico vitalizio. Per chi ha ad esempio 5 anni di consiglio alle spalle, si tratta di un contributo di 1.400 euro lordi al mese, una sorta di win for life, perché il vitalizio, come dice la parola, è per sempre. Se poi l'esperienza fosse più lunga, si può ad esempio arrivare ad oltre 4.000 euro mensili, per non parlare di chi gode tutt'oggi di un doppio vitalizio, quello magari di ex consigliere regionale e di parlamentare. Non tutti però sono uguali, il consigliere Marco Manneschi ha pubblicato sul suo profilo Facebook la lettera con cui rinuncia al vitalizio, un'iniziativa su base volontaria che potrebbe essere seguita anche da altri colleghi. Uno dei tanti impegni che ho preso quando fui eletto, cambiare la legge elettorale, fare una nuova legge sui costi della politica, ridurre il numero dei consiglieri, insomma tutte le cose che siamo riusciti a fare in questi cinque anni, oltre alle tante altre, abbiamo una legge sulla partecipazione che è la più avanzata d'Europa, abbiamo una legge sulla trasparenza che fa sì che anche ieri mi ha scritto un consigliere comunale, un amico mi ha chiesto di avere copia di questa legge per poterla portare nel comune, insomma è una battaglia quella che abbiamo fatto in questi anni per restituire alla politica la sua dimensione è quella di essere di fatto dalla parte dei cittadini, tutto qui niente di che, ora ha creato molto scalpore questa cosa, però mi sembra una cosa necessaria nel momento in cui la situazione finanziaria che non è nel paese, le aziende chiudono, le persone perdono il posto di lavoro, è il minimo che dovevamo fare. Le azioni da parte dei colleghi? Dunque no, quando la proposi cinque anni fa ci fu una forte preoccupazione perché non se ne vedeva la ragione. Venendo da un'attività professionale si ascoltano le persone, ci si parla, si capisce che si vede anche un po' quello che sta succedendo e io spiegavo a tutti i colleghi sia toscani che anche di altre regioni che non è pensabile mentre i cittadini stanno facendo sacrifici inauditi che la politica non fa la sua parte.